Ciao a tutti e oggi parliamo dell'Apocalisse. No, sì, ma no, nel senso che non è la fine del mondo. È vero che i Maya hanno profetizzato la fine del mondo, è vero che nella Bibbia si parla di Apocalisse, è vero che in tanti culti si parlava, nell'ebraismo, in tantissime religioni o protoreligioni si parlava di questa fine del mondo, ma in realtà è semplicemente il cambio di un ciclo, è la fine di un'era e l'inizio di una nuova era. In astrologia è molto chiaro, siamo passati dall'era dei pesci all'era dell'acquario e questo a livello fisico per noi e a livello planetario si sta verificando adesso in questo periodo storico, per questo stiamo vivendo un periodo così importante e per questo c'è il fenomeno di tanto risveglio spirituale di cui abbiamo parlato nel video scorso, dei sintomi del risveglio, perché? Perché in questo momento c'è un cambio a livello planetario, no? Stiamo passando a un nuovo ciclo, una rigenerazione. Nello spiritismo era stato proprio dalle spiriti profetizzato che la Terra sarebbe passata da un pianeta di espiazione a un pianeta di rigenerazione. Questo significa che nel cammino di ascensione, che non solamente abbiamo noi come esseri umani, ma a noi pianeti, alla natura, a tutto il creato cosmico, perché tutto è movimento, niente permanente, no? E quindi c'è un cammino costante verso degli stadi evolutivi. Mi piace sempre fare riferimento al fiore, no? Il fiore che sboccia e arriva a questa sua massima apertura, no? E in questo cammino di sbocciare in cui ci troviamo, dove non siamo ancora sbocciati, ma stiamo passando verso, stiamo andando verso, ci vorranno ancora milioni di anni forse o migliaia, non importa. Noi siamo in questo momento, in questo momento così importante, come sulla Terra, visto che siamo tutti collegati, anche noi stiamo sbocciando, anche noi ci stiamo svegliando, ci stanno proprio portando a svegliarci. Ma parliamone un pochino di più di questo cambio planetario, no? E cosa sta succedendo a livello del mondo? Tante cose, tante cose incredibili. Ad esempio, la vibrazione, la prima cosa, la vibrazione della Terra è cambiata. E questo gli scienziati non capivano perché, anzi all'inizio hanno detto, no, si sono rotti gli apparecchi, perché la frequenza della Terra, che questa frequenza Schumann ha fatto un salto quantico, è cambiata. Otto Schumann è un fisico tedesco che nel 1953 ha identificato questa frequenza e che si attestava fra i 7 e 8 Hertz, no? Questo campo elettromagnetico che emette la Terra. Ma nel 2014 questo campo è cambiato, che appunto credevano che fosse stato per causa di un'avaria degli strumenti di lettura, in realtà si è proprio alzato, si è alzata la vibrazione della Terra e siamo attestati su un 16 Hertz. In realtà attualmente sembra che oscilli veramente anche a gradi molto più alti, superati i 20, i 30, i 36, sta aumentando progressivamente. Ora non voglio entrare in dibattiti scientifici perché non sono un fisico e sarei comunque, mi basso sulle letture, no? Molti non sono concordi con la teoria New Age, di queste frequenze associate alle nostre onde cerebrali, né niente del genere, però diciamo che io parlo dal punto di vista della spiritualità. e questi cambiamenti che li sentiamo nel nostro corpo, li sentiamo nelle vibrazioni, li sentiamo nella Terra, ci sono. E poi lascio agli scientifici di fare i loro dibattiti, più o meno materisti. Comunque siamo lì, oscilliamo in questa frequenza attualmente, che guarda caso si allinea alle nostre frequenze delle onde cerebrali in stato di sveglia, cioè beta e alfa, quando siamo svegli o iperconcentrati, no? Questo ha comportato anche questa sensazione che tutti abbiamo che il tempo sia più veloce, perché il tempo in realtà è una percezione. Vabbè, non ci addentriamo sulle teorie di fisica, di spazio-tempo, ma diciamo che a livello percettivo lo sentiamo come più accelerato, i giorni ci sembrano che volano via e tutto quanto, perché è proprio una frequenza che si è allineata su questa parte delle onde cerebrali. E quindi, un grosso cambiamento planetario, no? Guarda caso che ha coinciso quasi con le profezie dei Maya. Un'altra cosa che sta succedendo, sembra il rumore nella fisica, del cambio dei poli, no? Questa è una cosa che è già successa, il cambio dei poli planetari, cioè l'inversione pollo sud, pollo nord, a livello sempre di magnetismo. E' già successa milioni di anni fa, più volte, secondo le teori scientifiche. E questo comporta anche appunto un grosso cambio nella ciclicità delle ere, no? E quindi si parla di grandi cambi evolutivi per la Terra. E poi aumenta la velocità di rotazione o diminuisce la velocità di rotazione. C'è varia teoria in proposito. Si pensa, c'è una teoria che dice che la velocità piano piano inizierà a diminuire fino a che si invertirà la rotazione della Terra. C'è chi dice che inizia a aumentare, poi diminuire, insomma, anche lì. Vedremo cosa succederà. Però qualcosa sta succedendo. Qualcosa sta succedendo a livello di fisica. Oltretutto stiamo ricevendo tantissime piogge solari, molte radiazioni elettromagnetiche. Oltre ai campi elettromagnetici che noi stessi abbiamo creato, perché praticamente si è creato una rete elettromagnetica fortissima fra tutti quelli che sono i componenti tecnologici che attualmente abbiamo, no? Però tutte le cose vengono sempre insieme. Dio è un'intelligenza talmente grande che sa tutto e niente è casuale, neanche quello che crediamo di fare noi. E quindi tutto questo enorme forte magnetismo che stiamo ricevendo è quello che noi sentiamo come percezione di scumbo sul lamento, che poi nel video precedente ho parlato di sintomi del risveglio spirituale, perché ci stanno proprio obbligando a svegliarci. Cioè ci stanno... La divinità, la fonte divina, ci sta proprio dicendo sveglia. È il momento di uscire dal sistema di pensiero precedente e andare verso una regenerazione, un sistema di pensiero nuovo, più evoluto, più in linea con l'ascensione. E quindi non solo noi, ma la Terra sta facendo sì che avvenga questo enorme cambiamento. Un'altra cosa che dobbiamo dire è che il nostro DNA cambierà. Diventeremo più leggeri. Nelle prossime generazioni le persone amplificheranno delle percezioni. Nell'antroposofia Steiner parla proprio di alcune capacità cerebrali che si stanno sviluppando adesso, organi che non abbiamo ancora che si svilupperanno, che ci permetteranno di avere una capacità di comunicare a livello energetico. Quindi saremo esseri più leggeri, più connessi con la natura. Sicuramente piano piano tutti i cibi di derivazione animale non saranno più il nostro alimento principale e avremo capacità di comunicare oltre quelle che conosciamo adesso, oltre i cinque sensi. Tutto si svilupperà sotto l'insegna del campo energetico, della capacità energetica. Quindi grandi capacità di sensitività che si svilupperanno. Già le vedremo adesso in questa incarnazione, ma nelle prossime generazioni sarà molto evidente. Adesso molti canalizzatori pensano che ci siano anche delle forme evolute sulla nostra Terra che fanno da ancore per aiutarci a questo cambiamento, che possono essere alieni, possono essere maestri ascesi. C'è tantissime teorie in proposito, però io non ho idea, nel senso che io più o meno annuncio varie teorie, ma io come esperienza personale non ho esperienza di conoscere alieni, né di aver canalizzato alieni, né di sapere che ci sono dei maestri ascesi sotto forma di persone che stanno gestendo questi poteri di evoluzione della Terra. Quindi non lo so, però ci sono tante teorie in proposito. quindi se qualcuno di voi ha avuto queste percezioni o riesce a canalizzare con queste entità, sicuramente magari sente o sa che sta succedendo, che abbiamo anche, come dire, un gruppo di aiuto per sostenerci in questo cambiamento evolutivo. Quello che tutti sostengono è che è un momento per le anime, considerate che non siamo il nostro corpo, no? Guardate la situazione come anime. È un momento evolutivo per le anime fondamentale, è uno spartiacque. Le anime che si adegueranno al cambiamento e a rigenerazione sono anime che potranno seguire in questo percorso di sbocciare. Le anime che proprio non riescono ad adattarsi a questo cambiamento non si reincarneranno più su questo pianeta e andranno a reincarnarsi su pianeti i cosiddetti inferiori, cioè ovvero su entità planetarie dove ancora si deve lavorare sulla fase prima, la fase anteriore a quella evolutiva dove siamo adesso. E quindi, ovviamente, è un momento fondamentale per svegliarsi. Siamo tutti chiamati a farlo, però diciamo che accetterà la chiamata e lavorerà sul sé interiore, sul sé superiore e sull'evoluzione della Terra riuscirà a evolvere come anime e a vivere questa esperienza. Chi si chiude a riccio e non vuole assolutamente sentire questo cambiamento, questa chiamata, nella prossima vita non avrà modo di tornare qua. Questo lo dicono in tantissimi teorie, c'è appunto nelle teorie dello spiritismo, ma sono in tanti a dirlo, anche fuori da lo spiritismo, ho sentito veramente tanti canalizzatori anche indipendenti, spirituali, che hanno commentato questa cosa qui. C'è un momento cruciale per le anime, per dire, insomma, il famoso popolo degli eletti, eletti nel vero senso della parola, siamo eletti perché scegliamo, decidiamo di seguire questa corrente oppure ci chiudiamo e non ci sentiamo pronti, ci chiudiamo e non seguiamo questa corrente. Ma se voi state guardando questo video sicuramente siete fra quelli che sentite la chiamata perché altrimenti non sareste collegati a questo canale e quindi perciò siate felicissimi perché vivremo sicuramente vite stupende da ora in avanti perché appunto l'evoluzione è un'evoluzione a un pianeta di rigenerazione a un pianeta più bello a un pianeta più luminoso e questo ci porterà una grande felicità interiore una grande connessione con il divino una grande pace interiore tante cose stupende che succederanno per quanto adesso sembra che tutto sia terribile ma è come dire l'assestamento finale l'apocalisse parla proprio di quello no? L'assestamento finale per spiegarlo nel modo più semplice possibile è la tempesta al quale dopo viene la quiete e siamo in questo momento qua nella tempesta prima della quiete e quindi bene questo è quello che sta succedendo alla Terra in questo momento e felicissima di farne parte anche io in questa esperienza perché ne vedremo delle belle grazie a avermi seguito un bacio e a presto grazie a tutti